Tempesta cannibale, cioè ci deve essere per forza qualcosa che spaventa, se no non funziona. Che vuol dire questa tempesta cannibale? Vale a dire, dal sole partono dei fiumi di particelle ionizzate che arrivano anche nell'atmosfera e sulla Terra. A volte quella che parte dopo è più forte, e in questo caso sta succedendo questo, è più forte, è più veloce, quindi raggiunge l'onda come se fosse l'onda precedente. L'occupante sarebbe se si verificasse quello che è successo nel 1872. Ci sono avuti danni sui fili del telegrafo perché queste tempeste magnetiche possono creare delle correnti nei fili elettrici. Se succedesse oggi è stato calcolato che solo negli Stati Uniti ci sarebbe qualche miliardo di dollari di danno.